Se osserviamo le affascinanti somiglianze tra le strutture del cosmo e quelle del nostro cervello, dobbiamo chiederci, viviamo nella testa di qualcuno? Perché le cellule cerebrali sono simili all'universo? Due ricercatori italiani hanno indagato su questa domanda e sono giunti a una conclusione sorprendente. Se osserviamo le strutture del cosmo e del nostro sistema nervoso, troviamo delle somiglianze quasi incredibili. A livello microscopico, gli ammassi di galassie rispecchiano le reti dei nostri neuroni, mentre i filamenti e i vuoti della struttura cosmica ricordano le connessioni tra le cellule nervose. Come i neuroni che comunicano attraverso le connessioni sinaptiche, le galassie dell'universo interagiscono attraverso le forze gravitazionali. Il filo della rete cosmica è simile agli assoni, che trasportano le informazioni su grandi distanze. Lo sviluppo delle strutture nel cosmo presenta dei parallelismi con la neurogenesi, ossia lo sviluppo del nostro sistema nervoso e del nostro cervello. Le stelle e i neuroni sperimentano processi complessi e simili. È incredibile, ma la gerarchia delle strutture cosmiche rispecchia l'organizzazione del nostro sistema nervoso, dalle unità più piccole alle reti complesse. Potrebbe essere una coincidenza, o questa somiglianza sta cercando di dirci qualcosa di specifico, che abbiamo trascurato nelle nostre ricerche fino ad ora. Io e te siamo forse una cellula cerebrale in un grande qualcosa, che chiamiamo universo. I nostri cervelli e i nostri corpi potrebbero contenere anche minuscole unità intelligenti, che si percepiscono come vive, libere e uniche, ma per noi non sono altro che cellule nervose o particelle di sangue. Gli scienziati ne hanno la prova. Le affascinanti somiglianze tra il cervello e l'universo sono state notate da un astrofisico e da un neurochirurgo italiani. Franco Vazza, dell'Università di Bologna, e Alberto Feletti, dell'Università di Verona, hanno presentato un documento congiunto nel novembre 2020 che è destinato a svegliarci. Queste analogie non sono una coincidenza, ma ci portano ai limiti della fisica e ci fanno entrare in contatto con dimensioni completamente nuove. Vazza e Feletti affermano nel loro articolo che il cervello umano contiene circa 69 miliardi di neuroni, mentre l'universo osservabile contiene circa 100 miliardi di galassie. Nell'intero universo le galassie costituiscono il 30% della massa totale. Nel cervello i neuroni rappresentano questo 30%. Le galassie e i neuroni sono disposti in modo simile lungo complessi filamenti ramificati. Il restante 70% della massa è costituito da acqua nel cervello e presumibilmente da energia oscura nel cosmo. In cosmologia, la densità spettrale indica la distribuzione spaziale delle galassie e anche in questo caso i ricercatori hanno trovato chiare somiglianze. Il cervello umano ha un volume medio di poco più di un litro, mentre l'universo contiene oltre 9 mila miliardi di trilioni di anni luce cubici. Ci sono differenze enormi in termini di dimensioni tra l'universo e il cervello umano, eppure entrambi i sistemi sono simili in termini di complessità e auto-organizzazione. La somiglianza delle strutture è sbalorditiva. Ad esempio, i ricercatori sostengono di aver scoperto che le distanze tra il nucleo atomico e gli elettroni e i neutroni di alcuni elementi corrispondono esattamente alle distanze tra i pianeti e il Sole. L'universo è un organismo vivente Solo cento anni fa gli scienziati pensavano che l'universo fosse una struttura rigida, simile a una stanza in cui sono sospesi stelle e pianeti. Da allora sono successe molte cose. Oggi sappiamo che nulla nell'universo è fisso e costante. Tutta la materia gira e ruota o vola a velocità incredibili nello spazio che conosciamo come universo. Eppure queste velocità sono minime rispetto alle dimensioni complessive, forse non diverse dalla vibrazione naturale delle tue cellule. Ora sappiamo che siamo a casa nostra su uno dei tanti trilioni di pianeti. Tutti questi pianeti hanno una stella e i sistemi stellari formano le galassie. Le galassie formano gruppi e migrano lungo i filamenti del cosmo. A volte si incontrano, si fondono, si sfiorano o si respingono, proprio come alcune cellule o unità del nostro corpo si fondono con altre, mentre altre si limitano a passare o addirittura si respingono. Gruppi di galassie formano giganteschi ammassi di galassie e questi appartengono a strutture ancora più grandi. Se prendiamo insieme le strutture conosciute dell'universo e creiamo una mappa, emergono immagini che ricordano chiaramente le strutture organiche. Siamo onesti, se non sapessi che stai guardando una mappa delle strutture del nostro universo, penseresti a un'illustrazione anatomica, non è vero? Le immagini ricordano in qualche modo l'orecchio con la coclea e gli ossicini, la sezione di un'articolazione con le fibre muscolari o persino le immagini del sistema nervoso dell'Atlante di anatomia. Le somiglianze sono così evidenti che non possiamo certo pensare che l'universo sia un'entità inanimata. Cosa c'è dietro queste inquietanti somiglianze? Secondo te cosa c'è dietro queste somiglianze? Pura coincidenza o ci dicono qualcosa di più? Nel loro lavoro, i ricercatori italiani Vazza e Feletti sono giunti alla conclusione che da un punto di vista puramente scientifico, queste somiglianze indicano semplicemente che le strutture sono formate dagli stessi principi fisici. L'antico studioso Hermete Trismegistos espresse qualcosa di molto simile nelle sue leggi ermetiche. Il motto, come dentro così fuori e come sopra così sotto, intendeva indicare alle persone che i sistemi che si trovano dentro di noi possono essere trovati anche fuori, nella natura e nel cosmo. Stiamo quindi assistendo alla prova di un progetto intelligente per l'universo e dobbiamo guardare dentro di noi per capire il cosmo là fuori. Ciò che colpisce, oltre alla somiglianza delle strutture e delle forme organiche nell'universo, è l'alto livello di connettività all'interno delle due reti. Tutto nell'universo è collegato in rete lungo i filamenti e le innumerevoli strutture del tessuto cosmico, proprio come le cellule nervose sono collegate in rete nel nostro corpo. Il sistema nervoso conduce gli impulsi dal cervello al corpo e agli organi. Gli organi rispondono a modo loro e il cervello può così regolare il metabolismo, la crescita ed rinnovamento delle cellule e persino la pressione sanguigna. Ci si chiede ancora come faccia il nostro corpo a fare tutto questo e da dove provengano le informazioni che fanno crescere il nostro corpo o che regolano il battito cardiaco. Se crediamo ai principi degli antichi studiosi e saggi, la stessa intelligenza che crea i nostri corpi e li mantiene in vita dovrebbe essere responsabile anche della creazione dell'universo. Anche le informazioni come gli impulsi nervosi viaggiano lungo le strutture dell'universo. Ma da dove provengono queste informazioni e chi le invia? È tutto un gioco assurdo? Immagina di guardare il cielo e di vedere delle nuvole che formano delle forme, magari simili a un elefante o a un cuore. Ora immagina che il cielo sia infinitamente grande e che ci sia un numero infinito di nuvole che possono formare ogni tipo di forma. Ludwig Boltzmann, un fisico intelligente, riteneva che in un universo enorme e infinito con moltissime particelle, a volte le cose potessero nascere per caso, come queste forme nelle nuvole. Pensava addirittura che i nostri cervelli non fossero stati creati per qualche motivo superiore, ma per pura coincidenza o capriccio dell'universo. Il paradosso di Boltzmann dice che se l'universo è davvero così vasto, e ci sono infinite possibilità, allora potrebbe essere che un cervello o addirittura una testa completa possano nascere per caso. Sarebbe come se un cervello perfettamente funzionante apparisse dal nulla senza alcun motivo. Le nostre idee, che tutto debba sempre avere una ragione, o che le strutture e le leggi fisiche abbiano una validità assoluta, giocano un ruolo subordinato in un cosmo di questo tipo. Nel cosmo di Boltzmann c'è più caos e disordine che leggi razionalmente comprensibili. Forse la nostra esistenza e tutte le folli somiglianze tra l'universo e il cervello assomigliano a un gioco caotico. Alla fine del XIX secolo, Ludwig Boltzmann condusse un'intensa attività di ricerca sul funzionamento dell'universo e sulla sua eventuale intelligenza. Se dovessimo ipotizzare che l'universo è intelligente e vivo, come pensiamo noi stessi, questo comporterebbe un enorme cambiamento. Se vediamo l'universo non come uno spazio buio con materia inanimata, ma come un organismo vivente che è intelligente quanto noi, non possiamo aspettarci che il cosmo sia sempre razionale e spiegabile con formule matematiche. Guarda te stesso. Il tuo corpo funziona secondo le regole della biologia e della chimica e ti muovi secondo quantità fisiche. Ma sei anche confuso, caotico, fantasioso o talvolta imprevedibile. Boltzmann si rese conto che la nostra esistenza e il nostro cervello potevano avere origine da un'idea così folle dell'universo. Le somiglianze sarebbero quindi delle pure coincidenze che potrebbero essere spiegate dal fatto che l'universo modella di volta in volta i suoi componenti concepiti in modo casuale, secondo schemi simili, o ne inventa di nuovi a suo piacimento. Tutto potrebbe quindi essere solo un gioco assurdo, ma noi umani non vogliamo accettarlo. Cerchiamo e ricerchiamo un significato e delle regole che possiamo comprendere e seguire. Viviamo forse in una simulazione? Le ultime scoperte della fisica quantistica si spingono ancora più in là. Dicono che il caos e l'ordine sono solo due stati possibili in un cosmo dalle infinite possibilità. Noi stessi potremmo addirittura essere i creatori dell'universo. Questo potrebbe significare che siamo stati noi stessi a creare le somiglianze dell'universo con il nostro cervello per riconoscerci in esse, e non che l'universo ha creato noi. Il filosofo statunitense Nick Bostrom ha formulato una tesi nota come argomento della simulazione. Questa tesi afferma che la vita e gli universi possono essere creati da civiltà tecnologicamente e mentalmente molto avanzate. Questi esseri sarebbero in grado di creare simulazioni complesse che vengono percepite come reali dalle entità che le abitano. La seconda ipotesi è che tali simulazioni diventino sempre più numerose nel tempo. In termini pratici, ciò significa che la ricchezza di possibilità in un mondo del genere diventerebbe sempre più grande. La terza ipotesi sostiene che, se in futuro sarà possibile creare tali simulazioni, la probabilità di trovarci in una di esse è prossima a uno. Questo può significare due cose. Primo, che ci troviamo in una simulazione creata da altre entità, e che stiamo vivendo ciò che queste entità vogliono che viviamo. Da qualche parte, i programmatori del gioco si staranno divertendo a guardarci mentre riflettiamo sulla somiglianza tra il cervello e l'universo, e in fondo questo non è altro che una briciola di pane che viene offerta al topo nel tentativo di attirarlo in una certa direzione. Un'estensione del modello prevede che noi stessi siamo forse questi esseri elevati, o siamo alla pari con loro, solo che non ci percepiamo ancora come tali. Ciò significa che anche noi siamo creatori e che creiamo la realtà ogni giorno. Quando un giorno ce ne renderemo conto, saremo in grado di controllare la nostra creazione ed eventualmente di creare mondi in cui vivono esseri che si pongono domande come queste. Iscriviti subito al canale, ci sono molti altri video interessanti in arrivo.